Allora, siamo praticamente pronti, però prima di iniziare la giornata, facciamo un minuto di silenzio e raccoglietto per una tragica scancanza quest'anno. Vedrete a me, Stefano, che ho praticamente scontato, per andare con il giudizio di tutta tra la mia domanda, una posta di un mese, un minuto per Stefano, buono. Grazie. 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 Grazie a tutti per me. Oh, grazie. 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 Siamo un bravo Susi e un bravo Bernardo Bacchetti. Bene. Se volete fare anche un'altra foto. Bene, bravo Susi. Siamo arrivati a Caprizio Prima in posizione. La parola di Salvi e sono prevede il gioco di questi campionati regionali. Scordoni e giugni del Gran Sorda Samba in Tocchia Samba. La prima finale sarà a Rigri di Donenevo Cicciocca a 7. Un'ora parola di Scordoni e composta giusta a Scandola. Siamo arrivati a tutti i giorni. Quindi un bel per questo segmento. Scordoni da Puginistri. Sarà gravi sui saluti a dirigere questo spandimento. A teniamo l'ultimo. Vi sorridi. Volevo andare al posto di oggi. Cos'è? La parola di Puginistri. 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 A dirigere questa mancia. Puginistri. 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 3 minuti, gola. Trappezza, 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 lo sento di giugno. Grazie. 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 di ferro che mangia un tocco di ferro per andare in Tessia bene, siamo in mente in provincia del nuovo proprio regionale il suo regionale è il nostro nuovo mi vado a sentire scusate cos'è in Italia o va a borsa no, qui non si è in Italia scusate, dove è che è andato un po' non ci state questi due finalisti della nostra lista bene, facciamo fare un applauso a tutti la nostra lista è il momento in questa situazione il suo massimo il grande collaboratore storico nome il giudizio delle corne amiche e questo è un punto per la settimana finale giugno, il giro grafico 60 il giudizio delle corne amiche e questo è un punto per la settimana il giudizio dei corne amiche e questo è un punto per la settimana il 60 vediamo il papà lo studiano il museo vedete come se vive sono mai lo studiano e poi ci si rimane a casa Giovanni è la finale del progetto gli anni 60 anche questo è il giusto il giusto è il giusto il giusto il giusto il giusto il giusto è il giusto il giusto il giusto il giusto è il giusto è il giusto è il giusto è il giusto ma questo non può essere abbastanza bravi divertanti e tre 70 70 non puoi fare tanti tu vietti e fai presto scambiando dove andiamo a fare spagna al massimo da di ma io da gabriel li portiamo là è il giusto che non 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 per fare sì 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 non però non 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 bene la domani la sora giulio di 60 Grazie. 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 Ok. Dai ragazzi. Terza. Grazie a tutti. Gira! Gira! Non fatti prendere! Colpisce via! Colpisce via! Colpisce via! Non stare lì con lui! ... 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 Ma ce ne sono due tre? Quattro? Quattro? Quattro nuove arbitri abbiamo? Posso andare ad arancarmi? Non è giusto non è arancarmi? Ah, ma è bene, stasera non è che vale per così di arancarmi. No, da per vedere, comunque, sì, è buono anche. Menni, stai musica, sei volito, 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 sei volito. Non è vero, ma non è vero, ma non è vero. No, 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 no. Pianco, vincere il nuovo campione del giornale gioco del Pio Campi 60, a una nuova, un giovane! No, 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 no! No, 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 no. È vero, va bene, vi sono prig긴 da prossima, tra i posti, con i conteggi per la tecnica, per la cuore, per la pace e tutti suoi mod pathway. Grazie a tutti. 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 Vai. 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 Grazie a tutti. Vai. 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 Grazie a tutti! 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 e a tutti! Grazie a tutti! a tutti! a tutti! a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! 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 bravo! entra! all'angolo! eccolo! bravo! a tutti! 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 vai! a tutti! 4! tu! a tutti! 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 ! a tutti! a tutti! a tutti! ! a tutti! 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 ! a tutti! a tutti! 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 ! 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 Bravo! Vai Canelo! Vai! Su! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.